Per dare maggiore lustro al mercato dell'antiquariato Alchieti, l'amministrazione comunale ha pensato di indire un bando specifico? Assolutamente, ci accingiamo ad adottare una delibera ingiunta con la quale andremo a dare indirizzo al settore per l'indizione di un avviso di un bando che ci consentirà di selezionare il concessionario nel mercato dell'antiquariato di Corso Marruccino ma cercheremo veramente di stabilire dei criteri che siano impostati sulla qualità vogliamo mettere in piedi un evento che sappia caratterizzare la nostra città sulla strega delle buone prassi nazionali devo dire che abbiamo una grande attenzione attorno al nostro mercato dell'antiquariato però vogliamo fare in modo che questo diventi ancora più attrattivo che sappia ancora di più portare persone in città perché riteniamo che sia non soltanto un modo ulteriore per aumentare le presenze nella nostra città ma contestualmente anche dare un supporto a tutta la categoria commerciale perché ovviamente il Corso Marruccino ha tante attività di commercio al dettaglio, di commercio di vicinato che sicuramente ne trarrebbero beneficio grazie grazie grazie